Ciao, siamo lo Stato delle Cose. Ci vediamo il 17 aprile alle finali regionali di Rock Targata Italia. Dai! Ciao, siamo lo Stato delle... Aspetta, se... Ciao, siamo lo Stato delle Cose. Ci vediamo il 17 aprile alle finali regionali Lombardia di Rock Targata Italia. Allegge il Campo di Milano. Ci vediamo il 17 aprile alle finali regionali Lombardia di Rock Targata Italia. Allegge il Campo di Milano. Se vi piace il rock indipendente d'autore Ciao, siamo lo stato delle cose Ci vediamo 17 aprile alle finale regionali Lombardia Rock Targata Italia Allegge Club di Milano Se vi piace il rock indipendente D'autore Finisci la frase Ciao, siamo lo stato delle cose Cosa c'è? Ciao Ma che te frega Ciao, siamo lo stato delle cose Ciao, siamo lo stato delle cose Ci vediamo il 17 aprile alle finali regionali di Rock Targata Italia Allegge Club di Milano Se vi piace il rock indipendente d'autore Seguiteci sui nostri social E ascoltate il nostro primo album Lo stato delle cose Vi aspettiamo il 17 aprile a Allegge Ciao Ciao No Non puoi giurare Tra noi Non puoi Ci vediamo il 17 aprile all'interno Aggiungere Aggiungere Grazie a tutti